Si muove all'insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela imperante in Europa e scambia sulla linea di parità. Tra i best performers di Milano in evidenza Saipem, le peggiori performance invece si registrano su Italgas, che ottiene un meno 1,36%. L'oro è sostanzialmente stabile su 1.270,6 dollari l'oncia. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicati in Spagna, il dato sui prezzi al consumo, pari a 1,6%, e il dato sul PIL, che si attesta su 0,8%. Tra i principali indicatori in arrivo si attende questo pomeriggio dalla Germania la diffusione dei prezzi al consumo, sia per la base mensile che per quella annuale. Si attende un avvio in rosso per la borsa di New York. In particolare il future sull'S&P 500 si muove a ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100, che tratta a 6.211,75 punti.